Purtroppo nei finali del set è mancata un po' di esperienza da parte nostra e loro sono stati più bravi a sfruttare le occasioni che gli sono capitate però il problema è a monte perché durante il set abbiamo avuto tante palle per far punto in contrattacco e noi l'abbiamo sfruttata, abbiamo fatto un po' di errori banali però è dovuta anche all'età questa, all'età giovane della squadra La strada è quella giusta e spero che già da mercoledì conquisteremo qualche punto Avevamo di fronte una squadra abbastanza forte e competitiva anche se loro oggi hanno avuto qualche problema anche grazie a noi, grazie al nostro servizio abbiamo messo molto in difficoltà, abbiamo studiato molto bene la partita il mister ci ha fatto lavorare molto bene e come ho detto abbiamo fatto una buona prestazione di là c'è un'ottima squadra, un'eccellente squadra e questo ci può far solo ben sperare è mancato sempre nel finale del set, è mancato sempre un po' di pizzico di fortuna un po' di determinazione da parte nostra però non possiamo recriminare niente perché alla fine i parziali parlano da soli e va bene così per adesso Beh, venire a Frosinone e avere una cornice di pubblico così importante così diciamo che non pensavamo di essere così seguiti però ci ha aiutato molto e penso che l'adrenalina che si prova in queste partite non si può spiegare e invito tutti i mercoledì al plazzetto Grazie Perfetto